Eccoci qua ragazzi, eccoci qua Ho dolori ovunque, dolori veramente ovunque Sono pure stanco, voglio dormire Vabbè, non ci interessa perché Cioè a voi non interessano i miei lamenti, i miei vizi, i miei problemi, giustamente A voi interessano i problemi del Napoli Fatevi salutare Hola Hermanito, sono Gia7 Benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio al mercato Parliamo di voci di mercato E parliamo principalmente di attacco oggi Perché parliamo di attacco, potrebbero esserci delle novità interessanti sotto questo punto di vista Soprattutto in questo momento relativa a Romero Lukaku Io partirei proprio da questa notizia qua Dalla notizia relativa al calcio tre belga che sappiamo il Napoli abbia già l'accordo con lui Il Napoli sta solo aspettando la cessione di Victor Rosyman Che è praticamente cosa certa Nonostante comunque molti dicano di no, molti dicano che è complicato Sicuramente complicato Bisogna sicuramente trovare una quadra Però il Napoli venderà Rosyman e prenderà un attaccante Conte ha già sentito Lukaku più e più volte E' lui l'attaccante che desidera Però bisogna andare a leggere quelle che sono le condizioni A vedere quelle che sono le condizioni E devo dire che a me non sembra un'operazione tra le più virtuose che ci siano Poi io rimango sempre dell'opinione che ciò che vuole Antonio Conte è ciò che bisogna fare Se Conte vuole tot bisogna accontentare Antonio Conte Questo è poco ma sicuro Il Napoli può permettersi di spendere Il Napoli ha un tesoretto importante Il Napoli può permettersi anche di perdere una cosa di soldi Può farlo, può farlo Anche se io preferisco società che investono Piuttosto che fare i famosi instant team Bisognerebbe fare un giusto mix tra calciatori giovani e calciatori di esperienza E voglio prendere questa notizia di Nicolo Schira Che immagino conosciate, esperto di calcio mercato Che parla di questo tipo di operazione per quanto riguarda Romero Lukaku E come l'ho definita nel titolo, follia Secondo me è un po' una follia Perché è tutto ciò che il Napoli non è mai stato Però potrebbe essere effettivamente un grande segnale Di quanto Conte, Lele Oreali e Giovanni Manna Stiano cambiando, magari anche per il meglio La società sportiva calcio O Napoli, ecco qua Romero Lukaku is getting closer to Napoli Quindi si sta avvicinando al Napoli They are ready to offer 25 million euros to Chelsea To sign the striker Quindi il Napoli è pronto a offrire 25 milioni di euro al Chelsea Per comprare Romero Lukaku a 31 anni Who has an agreement in principle with Napoli For a contract until 2027 Quindi che ha un accordo in principio col Napoli Per un contratto fino al 2027 6 milioni e mezzo all'anno più bonus Quindi è anche un contratto importantissimo per Lukaku Cioè si passerebbe da Ozyman che prende 10 milioni Che comunque non sono per niente pochi A 6 milioni e mezzo più bonus Che non sono per niente pochi In the deal it could be included an option for 2028 Vabbè qui Nico potrebbe un po' migliorare Sull'inglese È migliorato Però comunque Nell'accordo Nella trattativa potrebbe essere inserita un'opzione Per il 2028 Ragazzi 6 milioni e mezzo Per due anni Più opzioni per il terzo Più 25 milioni Sono tanti soldi Sono veramente tanti soldi per un attaccante che poi Non è futuribile A meno che il Napoli non sia già convinto Di poterlo poi rivendere eventualmente In Arabia Saudita Il che sarebbe quella Una strategia Interessante Perché diciamo Se c'è una cosa positiva dell'Arabia Saudita È che è una specie di Cuscinetto E sì Un campionato Che non ha nulla a che fare col pallone Che a livello morale ed etico Non è corretto Che sta provando A comprare il calcio Senza avere Le basi per poterlo fare Cioè le basi sono solo ed esclusivamente economiche Però è una specie di cuscinetto Perché Hai quella Quella speranza Quella consapevolezza Che loro possono arrivare Anche con un calciatore in scadenza Ti cacciano 40 milioni E ti fanno fare una plusvalenza Per un giocatore Che quei soldi non li vale mai E quel giocatore Poi va a guadagnare cifre Esorbitanti Che mettono a posto Generazione 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 Su questo Se si parla in maniera egoistica Si può anche fare Questo tipo di ragionamento Questo quindi Per la questione Relativa a Lukaku Sento dire Da alcuni Che è una scommessa Alla fine Lukaku ragazzi L'anno scorso Ha fatto 21 gol 21 gol So 21 gol Cioè 21 gol Non sono Non sono roba di poco conto 21 gol E ha fatti con Murigno Col cambio di allenatore Con una Roma Non eccezionale È vero che la Roma Comunque Tecnicamente È una squadra Valida Questo lo continuo a dire Cioè per me La Roma viene fatta passata Per una squadra Molto più scarsa Di quello che realmente è Poi che sia costruita Magari in una maniera Non eccelsa Vero Però la Roma Per me è una squadra Validissima Validissima E poi ragazzi Un'altra notizia È questa qui Adesso Ecco qua Scambio Raspatori Chiesa Notizia di Tutto Sport Chiesa Raspatori Clamoroso scambio Giuve Napoli Perché potrebbe decollare Tra i due club Che stanno rimodellando Il reparto offensivo Spunta una possibile Doppia operazione Federico piace molto a Conte Jack è ideale Per Motta Che sarebbe stata All'estate di Federico Chiesa Nel bene o nel male Lo si era intuito dal primo minuto Dopo la fine dello scorso campionato Molti fattori in ballo A contribuire alle fibrillazioni Intorno all'attaccante esterno Innanzitutto Il contratto in scadenza Alla fine della prossima stagione Quindi l'aspettativa alta Di ingaggio Che al momento viaggia poco Sopra i 5 milioni e mezzo Tanti Poi la vetrina dell'europeo Con la maglia dell'Italia Che avrebbe potuto variare La forza dei parametri In campo Quindi il cambio Di allenatore La Juventus Con l'arrivo di Tiago Motta Che a differenza Di Massimiliano Allegri Poco tollera I giocatori anarchici Resti dunque A rispettare Consiglie tattiche E proporzioni di campo Da occupare Secondo meccanismi precisi Che in realtà Poi potrebbe essere qualcosa Cioè Questo tipo di calciatore anarchico In un certo contesto Invece a Conte Può piacere Bene Tutte queste componenti Shakerate nelle settimane Vissute da fine maggio Oggi stanno portando A ciò che si era immaginato Ah Questo non ci interessa Questo non ci interessa E ammannanza E ammannanza Chiese l'ipotesi Roma E non ci interessa Raspadori chiesa Cosa succede? Parliamo di Giacomo Raspadori Attaccante partenopeo Che può sboggere Con intelligenza tattica Sia il ruolo di prima punta centrale Che di seconda punta Un attaccante moderno Che sa leggere L'occupazione dello spazio A prescindere dalla presenza Del pallone E dell'occasione Da gol da sfruttare Vero? Una lettura Corretta Stranamente Da parte di tutto sport E allora si prefigura Uno scenario Che con il passare Di giorni E di qualche settimana Potrebbe assurgere A qualcosa di più concreto Ovvero lo scambio Tra Juventus e Napoli Di chiese e Raspadori Il valore dei due giocatori Sostanzialmente lo stesso Intorno ai 25 milioni Ma il contratto In scadenza a giugno Di Federico Fa sì che il suo cartellino Valga un po' meno Un conguaglio Di circa 5 milioni A favore del club Di De Laurentiis Potrebbe rappresentare Un punto di caduta Valido per i due club Che al comando Delle operazioni di mercato Vedono da una parte Cristiano Giuntoli Mamma mia Il punto qua E poi il che Mamma mia Da una parte Cristiano Giuntoli E dall'altra Giovanni Vanda Sino a qualche mese fa Compagni di squadra Sotto la mole Cercarsi e trovarsi Per approfondire Il possibile scambio Di due attaccanti Non sarebbe un problema Allora Sicuramente Raspadori Sarebbe più adatto A Tiago Motta E sicuramente Chiesa Sarebbe più adatto A Conte Se io penso Al giocatore adatto Più a Conte Penso a Chiesa Se penso al giocatore Più adatto a Tiago Motta Penso a Raspadori Al contempo Io penso che a Raspadori Con Conte Possa fare veramente Molto bene Soprattutto se si facesse Un 3-4-2-1 Ma anche un 3-5-2 Io penso che lui sia Un giocatore Perfetto Per il Napoli E che il Napoli In realtà penso Voglia puntarci Poi chiaramente Chiesa Gaserebbe tantissimo La questione del conguaglio Sono d'accordo Anche perché comunque Chiesa non viene Da un periodo eccezionale Oltre alla questione Del contratto in scadenza Poi Raspadori Non vorrei dire una stupidaccia Ma ha almeno 3 anni in meno Giusto? Raspadori 24 anni Esattamente 2000 E Chiesa Dovrebbe averne 27 26 Ne compirà 27 Il 25 ottobre Quindi anche questa È una differenza Importante Chiesa è del 97 Raspadori È del 2000 Queste sono tutte Tutte situazioni Che vanno sempre Prese in considerazione Quindi Non saprei Gaserebbe Ripeto Gaserebbe Magari Anche da parte Del tifo Juventino Potrebbe essere vista Come un'operazione A perdere da parte loro Però Io nelle potenzialità Di Giacomino Raspadori Credo tanto Penso che possa rappresentare Il futuro della nazionale italiana Penso che Se dovesse essere inserito In un contesto congeniale A lui Diventerebbe uno Un calciatore fortissimo Perché a lui non manca nulla Forse qualche centimetro D'altezza Però Ambidestro Può giocare in qualsiasi zona Del campo È bravo a legare il gioco A veramente tutto Cioè Raspadori Quest'anno Non è stato per niente Valorizzato E per me Per me Bisognerebbe Bisognerebbe Rendersi conto Di che tipo di calciatore Forte Il Napoli È in rosa E quanto vada Valorizzato Poi è stato sfortunato Perché davanti Ha avuto Un fenomeno Un giocatore Generazionale Generazionale Mi sembra un po' Tomancio Un giocatore Fortissimo Come Vittor Rosimane Ma secondo me Raspadori È ancora tanto Da dare Al Napoli Comunque è stato pagato Tanto Non ce lo dimentichiamo E niente ragazzi Questo è quanto Mi raccomando Fatemi sapere Quello che pensate voi Con un commento Qua sotto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale In descrizione Troverete Facebook Instagram Twitter Tutto quello che volete Sarà lì giù Troverete anche G7Shorts Il mio canale Obbligo Teleclipp 20 conici 20 rettenti del canale Troppo feriti Noi ci vediamo Forse volta Sempre e comunque Tutta la vita Forza Napoli Grazie a tutti